Malgrado la leggerezza naturale alla sua età, questo pensiere durò per qualche giorno a premerle il cuore con una forza, bastante a farle perdere quasi tutta la sua giocondità. L'indulgente canonichessa, attribuendone la tristezza alla privazione dei piaceri, fingeva di non accorgersene e raddoppiava le attenzioni e le carezze per farle sopportare la solitudine. Cominciando da lei e discendendo fino agli animaletti che Carolina aveva sulle sue mani allevato, tutti gli individui che erano nel castello le dimostravano, nella loro maniera, la gioia che provavano del suo ritorno e l'attacco che avevano per lei. Il tenero cuore di Carolina non poteva essere insensibile a tali dimostrazioni e quella potente attrattiva che hanno per noi i luoghi nei quali abbiamo passato l'infanzia, unita alla dolcezza di essere amati da tutto quello che ci sta intorno, ebbe l'ordinario suo effetto. A poco a poco andò ella ripigliando le antiche sue asuefazioni, e le quotidiane occupazioni tornarono ad essere per lei piaceri ugualmente vivi, come lo erano prima del suo soggiorno a Berlino. Il suo giardino, trascurato finché fu assente, riacquistò per le sue sollecitudini una nuova amenità, e non tardò ad essere nuovamente smaltato di mille colori. I veri e semplici piaceri della natura, sempre anteposti da quelli dei quali l'uso del gran mondo non ha corrotto il cuore e il gusto, non tardarono a scancellarli, e l'estate passò senza che ella avesse provato né alcun vuoto né alcun rincrescimento.